Medioevo ellenico cari amici Medioevo ellenico e Giorgio Colli grande, grande grecista Giorgio Colli Medioevo ellenico ma che cosa è mai il Medioevo ellenico perché noi conosciamo il nostro Medioevo il Medioevo europeo che va dalla caduta dell'impero romano d'occidente 470 480 dopo Cristo sino alla scoperta dell'America 12.1492 questo periodo è il nostro Medioevo il nostro Medioevo Medioevo europeo dalla caduta dell'impero romano d'occidente alla scoperta dell'America è il nostro Medioevo e sì però esiste pure il Medioevo ellenico cioè il Medioevo greco il Medioevo greco va grossomodo dal 1200 avanti Cristo all'800 avanti Cristo e riguarda un'area più ristretta riguarda la Griscia che anticamente si chiamava pure Micenia la Micenia perché la città più importante era Micene si chiamava Micenia io devo parlare del Medioevo ellenico Medioevo ellenico relativamente al grande Giorgio Golli perché me lo chiede un amico su Youtube questo amico su Youtube c'è il nickname di Aron Aronne Aronne B Aronne B a me è questo nickname Aronne B è un nickname non so se è un nome grafico Aronne però è un bel nome è il fratello di Mosè Aronne con Aronne e Mosè siamo siamo nel 1350 avanti Cristo con Aronne e Mosè quanto ne ho parlato io di Mosè gli dice i comandamenti ma ne ha parlato tanto pure Sigmund Freud anche Sigmund Freud c'è la celeberima opera di Sigmund Freud l'uomo Mosè era nascita del monoteismo e Sigmund Freud ti spiega che Mosè non era un ebreo era un egizio ma vabbè da qua questa è un'altra questione fermiamoci qua adesso al medioevo ellenico e al grande 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 e grecista Giorgio Golli perché questo mio simpatico amico che su youtube ha il nickname ripeto Aronne B Aronne B e ripeto Aronne è un nome di persona ma nel vecchio testamento Aronne risulta essere il fratello di Mosè beh mi dice parlaci di Giorgio Golli Giorgio Golli grandissimo grecista Giorgio Golli grandissimo grecista è morto ovviamente ha scritto opere eccezionali soprattutto per la casa editrice Adelfi di Milano Giorgio Golli è morto nel 1979 quindi sono più di 40 anni che è morto ma sono rimaste le sue celeberrime opere sulla Grecia sulla Grecia antica beh io però quando si parla della Grecia antica si deve ricordare che io sono Serafino Massoni e questa mia opera La stirpe del serpente uscì nel 2005 nel 2005 quest'opera qua è un'opera di Serafino Massoni che uscì mi pare nel 2004 nel 2005 insomma 15-20 anni fa l'hanno letta quasi tutti in Italia quest'opera qua uscita 15-20 anni fa poi è andata esaurita è andata esaurita ma si trova nelle biblioteche si trova eh beh poi la stessa opera mi è stata repubblicata la stessa opera è stata repubblicata dalla casa editrice Leone di Addizioni il cui editore si chiama Domenico Polito e in questa edizione la stirpe del serpente viene venduta in migliaia di copie in migliaia di copie continua a venire esaurita e l'editore deve continuamente ristampare nuove copie allora se si parla del Medioevo Hellenico io voglio sapere se il grande grecista Giorgio Colli Giorgio Colli grande grecista Giorgio Colli potete informare gran meraviglioso ha scritto una quantità enorme di libri e si è interessato del Medioevo Hellenico e si è interessato del Matriarcado e perché io qua parlo del Matriarcado io qua parlo del Matriarcado capito? cioè l'umanità originaria era matriarcale tutta matriarcale tutta tutta l'umanità era matriarcale il Matriarcado è venuto dopo io voglio sapere voglio sapere se Giorgio Colli che parla del Medioevo Hellenico parla del Medioevo Hellenico il Medioevo Hellenico è quel periodo che sta tra il 1200 e l'800 avanti visto il Medioevo Hellenico il Medioevo Greco dura 400 anni cioè sta tra la fine della guerra di Troia la fine della guerra di Troia facciamo cifre fisse la guerra di Troia di Troia si colloca nel 1200 avanti Cristo se vogliamo fare i Pignoli si colloca nel 1190 avanti Cristo e finisce nel 1180 avanti Cristo il Medioevo Hellenico si colloca tra la fine della guerra di Troia e l'apparizione delle opere di Omero Elia di Odissea nell'800 cioè il Medioevo Hellenico dura 400 anni ma che c'ha l'importanza il Medioevo Hellenico eh sì perché io parlo del Medioevo Hellenico eh io ne parlo del Medioevo Hellenico ne parlo eh eh sì e il Medioevo Hellenico ha di particolare che tutto ciò che è avvenuto in questi 400 anni che sono il Medioevo è stato distrutto e allora come si fa a sapere che cosa è successo nel corso del Medioevo Hellenico eh si deve essere degli investigatori investigatori io ho fatto l'investigatore e io ho scoperto cosa è avvenuto nel Medioevo Hellenico tant'è vero che quest'opera è stata pubblicata è stata pubblicata poi è stata ripubblicata cosa è avvenuto nel corso del Medioevo Hellenico è avvenuto che terminata la guerra di Troia vedete che c'è scritto qua la caduta di Troia vedete io ipotesi non fingo santa madonna eh terminata la guerra di Troia i vincitori gli agghi gli aggivi tornino in quella che era la micenia la Grecia la micenia 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 perché c'era c'era la città di Micene che era la città più importante eh si parla della civiltà miceneica la civiltà miceneica tornino tornino e siccome questi vincitori questi vincitori esercitori l'esercito di Agamennone di Menelao di Ulisse l'esercito dei vincitori vabbè tornano beh ci sono tutte le peripezie e va bene quando tornano sono patriarchi e hanno sconfitto Troia per questo motivo perché Troia era matriarcale quando tornano fanno piazza pulita di ogni traccia di matriarcado che c'è in Grecia fanno piazza pulita e ci vogliono 400 anni per eliminare il matriarcado io qua non vado più in là perché le cose sono tutte raccontate qua non posso mica ricominciare da capo ho impiegato anni io per scrivere quest'opera perché in quest'opera io vado dietro i miti patriarcali dietro vado dietro i miti li rovescio i miti e dietro i miti patriarcali io vi tiro fuori i precedenti miti matriarcali capito? ma non posso raccontare tutto ci ho impiegato anni e anni e anni non è che posso raccontare tutto allora in questi 400 anni in Grecia si fa piazza pulita di ogni traccia del matriarcado vengono distrutti tutti i templi dedicati all'idea alla grande madre vengono distrutti tutti gli ordini sacerdotali femminili le imprese degli eroi degli eroi Ercole tutti gli eroi patriarcali che vanno contro i mostri vanno a combattere i mostri altro non sono che imprese di questi patriarchi vincitori che vanno a combattere contro il matriarcato contro gli ordini sacerdotali femminili e c'erano pure armate pure questi qua e ci vogliono 400 anni per configgere il matriarcato 400 anni e il fatto è che Giorgio Colli grande grande gricista grande grande gricista non parla non dice che 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 il medioevo ellenico questi quattro secoli quattrocento anni furono impiegati per per distruggere ogni traccia del matriarcato ma guardate non è la prima volta che si fa tabula rasa che il vincitore fa tabula rasa dello sconfitto la stessa cosa è avvenuto a tempi delle guerre puniche con la terza guerra punica Roma fa tabula rasa della cultura punica parta con lenta e tutta la civiltà la grande civiltà punica punica fenicia punica che c'era lì nell'attuale dodizia viene eliminata non c'è più nessuna traccia ma la stessa cosa Roma ha fatto con la civiltà etrusca tabula rasa e così i patriarchi i vincitori la caduta di gioia vedete c'è scritto qua e i patriarchi hanno impiegato però 400 anni perché il matriarcato era fortemente radicato allora il fatto che io Giorgio Colli lo apprezzo moltissimo che sia chiaro però io di Giorgio Colli non ho trovato non ho trovato notizie che riguardano il matriarcato lui parla dell'Amazzoni io vi allego qua una notizia dove c'è scritto perché delle donne dai tempi delle antichi baccanti poiché delle donne gli uomini hanno ancora tanta paura gli uomini hanno tanta paura non tutti però non Giorgio non Giorgio Galli Giorgio Galli non ha paura delle donne che da sapiente filosofo e storico ha saputo raccontarne la storia spesso occultata e più secondo le sue ricerche cioè secondo le ricerche di Giorgio Galli tra il 1800 le baccanti fecero parte di un movimento di rivolta femminile poi passato alla storia con il nome di Amazzoni che lottò per mantenere l'antico culto della Dea una società matriarcale egualitaria e venne stroncata dagli eroi dell'antica Grecia da Ercole fino a Giasone o Giasone sì però quasi si parla così brevemente brevemente di questo medioevo ellenico che in pratica fu un massacro che durò quattro secoli nei confronti del patriarcato del matriarcato io questo brano poi lo lascio cioè Giorgio Colli grandissimo grecista ha scritto opere insuperabili però pare che non abbia una grande simpatia per una antica civiltà matriarcale cioè Giorgio Colli probabilmente non crede non crede che l'umanità all'origine fu tutta matriarcale e che l'umanità fosse tutta matriarcale ce l'hanno dimostrato gli antropologi recentemente Bronislav Malinowski il grande antropologo polacco Bronislav Malinowski che disse ai tempi dell'Ulss Bronislav Malinowski polacco Margaret Mead antropologa statunitense e hanno fatto degli studi nel 1910 1910 1920 1930 degli studi su società matriarcali ancora presenti nel 1900 ancora nel 1900 c'erano su questo pianeta delle società matriarcali cosa vuol dire società matriarcali società dove non c'è la figura paterna e perché nelle società materialali non c'è la figura paterna ma perché ancora non è stata scoperta la funzione dello sperma non c'è la figura paterna e non essendoci la figura paterna nelle società matriarcali siccome non c'è la figura paterna perché non è stata scoperta la funzione dello sperma non c'è manco il compresso edifico e si vede che queste cose però non piacciono tanto cioè la nostra società patriarcale non è contenta di sapere che una volta tutta l'umanità era matriarcale matriarcale e mi dispiace dirlo ma anche Giorgio Golli io non ho trovato dei riferimenti precisi riferimenti precisi che ci dicono che Giorgio Golli si è dedicato a studiare il matriarcado come ha fatto il Bacofen il Bacofen e tanti altri dopo il Bacofen come ha fatto Serafino Massoni come ha fatto Serafino Massoni perché io qua ho spiegato ciò che avvenne nel medioevo ellenico io ho spiegato tutto ciò che avvenne nel medioevo ellenico ho spiegato per filo e per segno va bene caro caro Arone B guarda che Giorgio Golli è un grandissimo ma probabilmente in Italia il number one per quello che riguarda lo studio della Grecia antica però sul matriarcado è un po' carente è un po' carente va bene in compenso c'è Serafino Massoni c'è Serafino Massoni che al matriarcado ha dedicato la stilte del serpente ok e chi è Serafino Massoni? chi è Serafino Massoni? ma Serafino Massoni è uno che attualmente ha circa 82 anni circa 82 anni Serafino Massoni circa perché sono nato nel febbraio 1940 quindi nel prossimo febbraio 2022 faccio 82 anni e soprattutto Serafino Massoni opera sulle grandi 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 piattaforme mondiali a Dailymotion YouTube e su YouTube Serafino Massoni attualmente ha circa circa 11 milioni di visualizzazioni per cui non è l'ultimo arrivato Serafino Massoni va bene caro Aronne B che mi hai fatto fare una rimpatriata nella Grecia antica ai tempi del Medioevo Ellenico tanto sconosciuto ma il Medioevo diventa meno sconosciuto perché esiste questa opera storico-mitologica che va a ruba nelle libere italiane ok Aronne B a te caro Aronne B e a tutti voi tanti cari saluti dalla stirpe del serpente a te a te a te a te a te Grazie a tutti.